Cosa hai fatto? Cosa hai fatto qua? Cosa hai fatto? Le hai fatte tu così? Ha distrutto una e un'altra. Le colchiette delle cuffette che ha completamente distrutto. Vedete? Completamente distrutto. Chi ha fatto questo? Sei stata tu? Sei stata tu a fare questo? Eh? Cattiva! Ma non sei più un cucciolo? Perché fai ancora queste cose da cucciolo? Eh? Cattivona! Cattivona! Mamma, non ti amo appena. È inutile che scodinzioni. Come si fa a sgridarla? Guarda, mi hai nominato le cuffie dell'iPhone che costano tanti soldi. Sei cattivissima, mamma. Mamma non ti vuole bene più. Ragazzi, qua. C'è un sirenetto. Buongiorno, sirenetto. Buongiorno. Buongiorno, amore. Buongiorno, amore. Buongiorno. 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 super pupi super pupi mi fa volare è caso di Dino Dario mi fa volare dice pupi fa volare ora come a terra fa volare sto volando rego non mi disturbare oggi è domenica è la prima domenica c'è il mezzogiorno e stiamo ancora a letto e noi ci alziamo ci stiamo qua ci stiamo qua va bene poi questo video sta diventando troppo alto lo sai perchè è alto che si vede la tua titta questa guarda da qua c'è bisogno di un retipetto qua c'è bisogno di un retipetto qua c'è bisogno di un tetto di Dario quante le carte su questa tetta è un video troppo alto mi fa perere qua c'è bisogno di un'altra cosa che si dice ho le mani stragi passeggiatina passeggiatina con il mio amore siamo venuti qua sul lago vero amore tra poco si scarica il cellulare come siamo belli mano nella mano vero amore siamo bellissimi siamo venuti a vedere il tramunto qua sul lago sono degli animali che fanno diversi strani comunque ce la stiamo godendo alla grande questa domenica è vero? sì che bello è una settimana cosa? una settimana in vacanza, com'è bene c'è il tramonto, ah d'amore il sole sta tramontando comunque noi non vediamo l'ora di partire per la nostra vacanza il 12 sarà l'ultimo giorno del carrito shop che c'è prima delle vacanze e poi riapriremo il 28 ma noi andremo in vacanza solo una settimana perché siamo poverelli sempre per la storia che abbiamo guadagnato milioni di euro con i negozi però siamo ricchi dentro, vero amore? sì siamo ricchi, molto ricchi dentro evviva che poi abbiamo scoperto ragazzi questa cosa di segni è fantastica che Dario è uno scorpione io sono toro e c'è una compatibilità massima fra i nostri segni sai? perché dice che il scorpione è molto passionale anche toro e ci completiamo a vicenda lui è più appassionale lui è molto più appassionale sono un po' più fredda però ci piacciono due cose in comune il gelato una è il cibo una è il cibo e un'altra? il camminare e un'altra non la... è un'altra non la... è un'altra non la... è un'altra non la... è sì, è sì è sempre comunque una forma di palestra insomma sì comunque è bello questo panorama è bellissimo ma come siamo belle amore è illuminato in assone c'è un contro cosa ci vuole dire questa cosa? che schifo non venite a fare queste cose al lago ce lo non lo trovo Molly Pupi 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 Paquito ora sei tutto ril Transit anno che fa MARI 拆 Bapallucci allora rocchi Quello con la scritta Ma che sei Rocky È in forma sbagliante Vachito Tengo una moglie vecchia Tengo una moglie vecchia È una figlia? Ho una figlia giovane È di lui che ne pensi? La risposta è una risata Non sappiamo se è positivo o negativo Non lo sappiamo E va bene generico Ma che gli volevi dire? Ah, stasera dove ci portate? Hai visto come l'ho trovato furbo Stati in diretta stasera dove ci portate? Attendo cosa dici A casa mia In fondo a sinistra No perché lui È come quello del video Quello che fa E siamo senza pagare Hai capito? No, è nata in un'azione sbagliata Doveva lasciare in portogallo Perché? I portoghesi dici che portano in mare Sono scrocconi E tu potessi che stasera Una persona Ci porta il sushi E ieri abbiamo preso troppi soldi Stasera ci abbiamo soldi Ma che ti è successo? Ieri abbiamo pagato 110 euro Può mangiare Un baguette Il mio ristorante più famoso di Napoli Ah, è portato ma purà Hai capito? Cioè, chi l'ha detto? Non teniamo soldi Portaci allo You can eat E chi l'ha detto? Votva a mio ristorante Bellissima Sta lui e lei Ma siamo ricchi dentro O no? Che è la cosa più bella È vero Maguito? È meglio essere ricchi È meglio essere ricchi È meglio essere ricchi dalla sacca Siamo a Carita Shop Speciale I saldi ragazzi Sono i saldi a Carita Shop Quindi venite E... Tanti prodotti scontatissimi Amore piace il mio trucco Come l'ho fatto naturale Che ho messo il rossetto rosso Questo orecchini che mi ha fatto mamma E poi questo vestitino Che se volete sapere E anche le scarpe La cosa più bella è questa Le ho fatti vedere Nel mio ultimo video A Hool Che ho fatto con Dario Andate a vedere Così scoprite questo vestitino Fantastico E anche queste scarpe Stupende Che marca sono E anche Dario Queste sono belle Poi c'è Dario Che finalmente sei tornato con la barba Grazie Lasciati la mano Ma perché devi di vestirsi un po' da voi Queste sono belle Vedete le scarpe nuove Ah ecco Dario ha comprato le scarpe nuove Aspetta le faccio vedere Sono belle Bellissime Amore fate i soldi eh Sì guarda Grazie a Carita Shop Buona le scarpe Non è che vuoi cercare la casa E' fatta libera no? Allora abbiamo fatto Il mio amore ha preparato Guardate quante cose belle A Carita Shop Sì io lo provo di voi Sto aspettando Bravo amore Guarda i pop corn Fatti Genuini da Dario Vero amore Fatti con le sue Lui è bravissimo Fa dei pop corn E nessuno fa Olive Salatini E poi tanti prodotti scontati Dei kit stupendi Preparati da me Saldi Saldi Tanti prodotti con i saldi Vedete Quanti saldi abbiamo messo E c'è gente che compra Saldi anche color caramel Non mi devi fare una parola Nel mio amore Sì Bravo Ora facciamo una visione di insieme Dato Che bello il mio amore Quanto è bello il mio amore Il mio amore si chiama Pupi Mi chiama Pupi Mi chiama Pupi mio amore Pupi Bella Pupi Titina Mamma mia com'è bella Pupi Ha delle belle sapette Pupi Pupi è bella Vi volevo far vedere queste cose che ho comprato al supermercato In particolare questo che è praticamente il farro bio di cocco E' una cosa troppo particolare che non vedo la di provare Perché il farro l'avevo mai trovato integrale E lo voglio provare a fare il farro Dato che io vi feci sul mio secondo canale Se vi ricordate la ricetta del farro in insalata Però adesso vi consigliatemi voi nei commenti Come lo mangiate Insomma Ho voglia di provare qualcosa di nuovo Poi il mio must Questo qua Questo è il salmone Ehm Il trancio Che diciamo quando non trovo il salmone fresco Mi piace questo qua Che comunque è naturale È molto buono Perché Ehm Sapete che il salmone è ricco di omega 3 e omega 6 E ha molte proteine Quindi è ottimo Una ottima alternativa alla carne Per gli sportivi Ho preso questa qua Di solito prendo la garofalo Anche integrale Per me perché piace molto Però ho preso questa qua Sono sempre Se non avete capito Ci facciano molte rigatoni a noi Non l'avevo mai vista Penso che sia una novità Al bronzo Appunto rigatoni integrali Non vedo l'ora di provarla E spero che sia buona E poi un altro mio must Sono tutti must La farina di avena E questa è quella che compro sempre Perché la trovo E quella che trovo Sempre nei suoi mercati Ehm La utilizzo tantissimo Lo sapete Vi ho fatto tante ricette Sul mio secondo canale Per i pancake Per il porridge Perché ha un Basso indice glicemico E Veramente mi piace tantissimo Per i dolcetti e le robe Vedere 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 10 e mezza Di giorno lavoriamo Di giorno ci alleniamo E la notte? Moriamo Moriamo la notte E' Per i articolo E' Per i articolo Un po' Meri E' Per i articolo E' Così Lo Adesso vi spiego il mistero degli esercizi sulla panca. Come si fa nella mia palestra, che è come se fosse casa mia. Si prende questo e metti la cera, togli la cera. Ecco qua, si puliscono tutte le panche. Vedete? Ecco qua. Il segreto. Quanti commenti inutili che lascia la gente. Non c'avete nulla da fare. Andatevi a fare un bagno. Oppure allenatevi. Che è meglio. Che fa bene, vi sfogate e non rompete le palle. Ciao. Ci hanno portato le pizze. Vado, guardate qua. Pizze fatte in casa, con farina integrale. No, vabbè. Grazie Sonia. Ringraziamo Sonia. Sonia, anche domani. Anche domani. Ma come? Sonia, fai il compleanno. Tutti i giorni. Questo è un brownie, fatto sempre con latte di soia, in modo comunque sano. È troppo invitante, no vabbè. E poi ho fatto anche io un'insalata con fagioli, pomodori, cipolle, una cena fredda e del prosciutto crudo. Che bella cenetta. E acqua e limone che non può mancare e pupi. Pupi. Ragazzi, il brownie è qualcosa di strepitoso. Madò. È vero che è buono. È troppo buono. Stiamo proprio godendo. Brava Sonia. Brava Sonia e la mamma. Madò, vi giuro. Che tra l'altro poi è uno dei miei dolci preferiti, il brownie. Ma questo è spettacolare. Buono, buono, buono. Grazie a tutti.